Diciamo che questo è un format nuovo che abbiamo implementato ancora, ormai siamo da 3-4 anni che siamo lanciati su questo format e qui abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo unito la tecnica, la nostra esperienza, anche all'esperienza di nuove tecnologie e abbiamo guardato il futuro sia sulla parte del risparmio energetico sia anche su quelli che oggi sono i costi che ci infliggono anche sulle manutenzioni. Sì, questo è un impianto integrato che oltre che a produrre la centrale, produrre il freddo per raffreddare i famosi banchi e i prodotti, alimenta anche un impianto di riscaldamento per l'inverno recuperando naturalmente parte dell'energia ed estate raffredda l'ambiente. Quindi l'obiettivo è quello di risparmiare sulla energia elettrica e soprattutto risparmiare anche sui costi di manutenzione visto che tutto ciò che è la parte di tecnologia impiantistica ricade su un unico fornitore. Penso proprio di sì, vedremo i primi risultati naturalmente quando guarderemo i tabulati anche dei consumi del punto vendita e immaginiamo naturalmente che la grande collaborazione che c'è con questo fornitore Arneg che ormai ci serviamo da decenni, sia da ambo le parti abbiano intravisto un obiettivo ma soprattutto un risultato da cogliere. È nata da una sinergia di scambio di opinioni e naturalmente di richieste da parte nostra ma soprattutto di quello che è una professionalità che arriva da un fornitore storico che naturalmente è uno tra i più quotati direi al mondo e questo siamo convinti che oltre alla grande teoria ci sia anche della sostanza. È stato studiato sulla base di una nostra grande esperienza guardando alle esigenze dei consumatori, dei clienti e quindi abbiamo cercato di proporre una proposta commerciale ma soprattutto anche un layout e un percorso al cliente facile e naturalmente di portare il prodotto il più vicino possibile a lui con una grande visibilità e una bellissima esposizione che i nostri collaboratori e colleghi sono stati bravissimi naturalmente a riempire quello che è fare il vestito di queste attrezzature che oggi sono sicuramente molto innovative. Diciamo che questo nuovo format è stato ancora migliorato per questo punto vendita che dovrebbe essere poi il seguito anche degli altri guardando all'ottimizzazione degli spazi soprattutto anche al percorso per i nostri clienti, i futuri nostri clienti e a mettere, avvicinare di molto il prodotto al cliente quindi rendere molto più visibile il prodotto e dare una proposta commerciale dove noi pensiamo veramente di fare la grande differenza. Tutto l'impianto è stato fatto a CO2, tutti i banchi sono dotati di protezioni di vetrine e quindi anche di sportelli, i prodotti sono chiusi che si possono conservare in maniera direi ottimale e questo naturalmente sempre di più, sempre per guardare, sempre risparmio energetico ma anche la conservazione dei prodotti.